Don Pierino Manfredi, l'uomo dell'essenziale, un prete veramente evangelico, è stato il maestro di tante generazioni di cristiani a Nola, un uomo che 24 ore su 24 si spendeva veramente per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. L'attualità di Don Pierino è quanto mai viva e penetrante, è un messaggio che egli ha lasciato ai cristiani e anche ai sacerdoti, anche ai sacerdoti, a noi sacerdoti per vivere uno stile essenziale, nella povertà, nella donazione, e ai cristiani ha insegnato, ha lasciato come eredità la volontà, la necessità meglio di aderire alla parola di Dio, di vivere il Vangelo senza infingimenti, ecco, senza infingimenti. Veramente la figura di Don Pierino resterà indimenticabile nei cuori di tutti. E questa sera la celebrazione così partecipata, con un'assemblea così numerosa, testimonia che il suo ricordo è ancora vivo nei cuori di tutti i nolani. E vogliamo sperare che il suo messaggio, la sua eredità, possano fruttificare, ecco, anche per l'avvenire. Grazie.